Carissimi, mi trovo qua negli studi di Canale 5 in attesa di fare un programma televisivo dal titolo Amici e da buon amico, da buon pugliese, da buon italiano voglio augurare alla cooperativa Auxilium e da Angeli Corazzi che ha organizzato tutto ciò ma soprattutto anche ai medici, ai fisioterapisti, agli infermieri a tutti coloro che stanno dando l'anima per combattere questo maledetto coronavirus che sta rovinando la vita a buona parte del mondo io le chiamo la terza guerra mondiale ma come tutte le altre guerre dobbiamo vincerle e con la speranza di incontrarci poi anche al più presto per festeggiare questa vittoria non sono ottimista ma realista con ottimismo un abbraccio a tutti quanti voi e a presto, ce la faremo